Mercoledì scorso il mega lampione alla rotonda di via Charles-Lenormand ha soffiato le candeline di un singolare compleanno. È trascorso infatti esattamente un anno da quando il palo della luce che illuminava un intero quadrante di dragona è letteralmente scoppiato, lasciando al buio via Salvatore Gasbarra e buona parte della carreggiata sottostante il viadotto Nuttal. Era il 17 febbraio 2020 quando l'illuminazione ha smesso di funzionare. I residenti raccontano di aver visto esplodere le lampadine e in seguito cadere a terra le plafoniere frantumate in mille pezzi. Da allora, nonostante le numerose segnalazioni, nulla è cambiato. A illuminare quello che è uno snodo nevralgico della zona, soltanto le luci provenienti dalle diverse attività commerciali ai lati della strada. In un nostro servizio andato in onda inizio dicembre, evidenziavamo anche la situazione di pericolo a causa delle forti oscillazioni nelle giornate di vento. Ma da reti continuano a pervenire solo risposte evasive. L'intervento è programmato e non si conoscono le tempistiche. Come Comitato Cittadino di Dragona, spiega il presidente Jacopo Innocenzi, non facciamo altro che segnalare il disservizio, senza però ad oggi aver ricevuto alcun riscontro sui tempi di intervento. Chiediamo a questo punto che anche l'amministrazione locale si faccia carico di questa criticità, nella speranza che tutto si risolva quanto prima.